buonasera benvenuti questa sera con me c'è un ospite ho proprio il piacere di ospitare aziz cerchi dell'associazione a tavassol di bassano allora questa parola tavassol in arabo significa comunicazione e in effetti quando parliamo di islam ce l'abbiamo un problema di comunicazione no da una parte i giornalisti che a volte non è che ne parlano nella maniera migliore o approfondita e dall'altra forse anche i musulmani hanno un po di difficoltà a esprimere effettivamente che cosa sono e il loro messaggio e allora proviamo a sentire ad aziz come come si fa a comunicare il vero messaggio dell'islam allora è il vero di di islam e della convivenza bisogna comunicare tutta la gente sia delle scuole sia vicini sia italiani che stranieri anche perché la nostra associazione quando è fondata e lo scopo per chiarire le cose per dare un messaggio per gli altri che l'islam non è quello che vedono di altri paesi che uccidono i bambini che che uccidono e uccidono gli anziani l'islam e della convivenza e della pace allora abbiamo capito che a tawassol è un'associazione culturale e che tipo di iniziative fate noi la nostra estiva è per imparare insegnare per i bambini cosa l'islam insegnare i bambini la lingua nostra lingua arabo la educazione come noi nati e imparati da nostri genitori che mai c'è l'odio mai c'è cattività e cattività di contro gli altri che sempre convivenci con una convivenza tra noi com'è a bassano la situazione c'è integrazione vi capiscono si qua a bassano è differente di altri di altri paesi di altri città bassano è l'unica forse l'unica città che ha l'acquidenza di straniere di l'integrazione sempre progetti che occupa e si tratta per l'integrazione per noi mi trovo bene qua a questa città di bassano invece di altri e sempre ci mori ci tutto chiuso non lasciare il spazio è quello che crea la rassismo e rassismo crea problemi tra straniere e anche italiani e quello che troviamo sempre in strani problemi e violenza perché non c'è un messaggio che comunica tra la gente io ad esempio se un vicino italiano ogni mattina dice buonasera buongiorno allora sempre mando un messaggio per la convivenza che io tra me non succede niente anche lascio quello il dubbio di l'altro di vicino chi dice è quello un bravo ragazzo e allora c'è la convivenza adesso con tutti questi attentati che ci sono stati ultimamente credo che sia ancora più difficile far passare un messaggio positivo perché con la media con tutto quello che succede a questo mondo è difficile comunicare con la gente perché la gente hanno perso la fiducia degli altri anche tra loro perché adesso vediamo la nisa cosa succede a francia la francia ha sbagliato tanto per integrare la gente sono il terzo generazione adesso un quarto a francia però la francia è lasciata la gente hanno preso la gente metto fuori la città invece qua in italia mi trovo diversa non dice la forbizia dell'italia ma l'intelligenza perché quando ti trovi un palazzo ti trovi un italiano un nigeriano un togo un marocchino di tutte le realtà c'è la convivenza tra loro dentro un palazzo e anche fuori in città casa vicino l'altra allora quello non c'è anche la gente non sente di rassismo di dell'isolamento allora invece francia è fatta quella problema e adesso il problema non di il problema non solo di la prima generazione la prima generazione è arrivata qua solo per lavorare per migliorare la sua vita invece di sui figli e nostro scopo noi e il figli e ragazzi è quello l'importante perché tutto quello che succede al mondo ti trovi ragazzo di 20 anni è nato a quello paese dopo fatto l'attentato perché perché c'è la disperazione la rassismo non c'è c'è di muri non c'è l'integrazione allora la ragazzo sempre diventa straniero dentro il paese dove è nato e dopo dopo e trovo uno che un mato un assassino che non c'è la pietà dentro il suo cuore dentro il web e gira e lava il suo cervello quando lava il suo cervello il bambino accetta quello che è e dopo fa l'attentato è quello il problema che è arrivato adesso io non ho paura della prima generazione sì uno sul 100 uno sul 200 che è un mato un pazzo però i ragazzi è quello importante per noi perseguirli insegnarli bene per loro non lasciarlo a parte diciamo che il grosso problema è appunto l'emarginazione l'escludere noi questo su cui bisogna lavorare se bisogna sempre lavorare lavorare con ragazze con bambini con dal 6 anni a 18 anni è quella letta che bisogna lavorare bene intanto per loro perché quando lasciamo così io dico lavoro mia moglie lavoro lascia il bambino dai lascia lui ogni giorno e cambia beh perché quello mario non parla con me perché io mi chiamo mustafa allora crea l'odio tra lui e l'altro quando succede quello a charlie io arrivato è arrivati ragazzi a noi qua e dice ma noi sentiamo che siamo terresti che siamo cattivi che i musulmani perché all'invisita di padova ha detto no perché non c'è la comunicazione non c'è la l'educazione non so perché questo sempre quando succede qualcosa ti trovi un musulmano che ha fatto questo della regione allora nelle mie puntate io di solito cerco di togliere qualche stereotipo comunque di aiutare a ragionare allora c'è qualcuno che dice ma i musulmani non amano la musica non ne vogliono sapere però a zizze lavora in un ristorante con sopra una discoteca allora insomma come la mettiamo sì per lavoro noi diciamo il lavoro e lavoro però io non mi trovo male che io lavoro dentro una ristorante o dentro una discoteca anche l'importante che quello che c'è dentro e come l'udicato io c'è gente anche lavorano fuori quella settore però fanno piccate invece se tu educato bene e ti lavori anche dentro il vino ma non ti bevi hai capito come l'importante che quello della mentalità della persona come pensa e come educata ma il ragazzo può andare a ballare sì per noi non c'è il problema di ballare o non ballare e perché la gente sempre dentro il nostro libro sacro corano e prendono le versette ma non seguire tutte le versette fanno solo un pezzo del versetto e praticarlo però bisogna continuare se tu voglio giudicarmi o dicci qualcosa legge tutto il libro sacro e prenderlo bene e dopo giudicarmi io non credo che c'è in corano qualcosa che noi c'è le cose piccate e le cose si può farla è chiara anche se uno letto letto bene il corano tutto c'è il bianco c'è nero ma tutto è bello è capito come è così allora abbiamo imparato che insomma il corano bisogna leggerlo bene bene no perché gran parte della gente in realtà non lo legge per niente prende delle frasi magari a caso su internet e quindi prende sempre il negativo della cosa invece il corano un testo sacro va letto proprio bene allora io mi fermo qui ringrazio aziz di essere stato insieme a me e vi do appuntamento alla settimana prossima il alica ciao 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 ciao